Sei pronta, Rosas? È bello vedervi tutti qui per me. Chi vuole vedere il proprio sogno realizzato? È una colpa. Se lo specchio ama il re, sono i geni che il cosmo ha donato a me. Prendi il nome magnifico. È proprio adatto a un idolo. Amabile, incommiabile. Sono sempre molto amichevole. Ve lo mostro. Le stanze ve le offrirei senza un soldo da spendere. Risolvo i problemi e la risposta esatta ogni dubbio c'è. Io dono, dono, dono e spero che appreziate perché io voglio in cambio un po' di rispetto per me. Il grazie però dov'è? Il grazie però dov'è? Che dicevo? Ah, sì. Grazie. Trazione